Due progetti e due iter amministrativi separati. L'ANAS ha accolto la proposta del comune di San Donati Piave sui percorsi delle due future opere di sua competenza in territorio sandonatese, lo scavalco della rotatoria di Calvecchia e la variante tra Passarella e Caposile. E quindi si potrà procedere speditamente al completamento della progettazione per questo tratto e anche all'affidamento dei lavori. Se siamo fortunati già entro il termine di quest'anno. La previsione di spesa è di circa 16 milioni per quanto riguarda quest'opera, quella cioè che consentirà per chi scende dall'autostrada di scavalcare la rotatoria e dirigersi direttamente verso le spiagge, mentre 26 milioni è la somma prevista per la variante in destra Piave tra Passarella e Caposile. Dei due progetti ANAS, quello più avanzato è quello del terzo lotto della variante della Statale 14, meglio conosciuto come lo scavalco, per il quale ci sarà un'unica valutazione ambientale, quella del Ministero della Transizione Ecologica. Poi finalmente il progetto esecutivo, il bando di gara e l'affidamento dei lavori. Considerate che è da quando è stato inaugurato il ponte sul Piave, cosiddetto dei Granatieri, che subito dopo avrebbe dovuto compiersi, completarsi questa variante alla Statale 14 e quindi stiamo parlando di oltre dieci anni.